La terza lezione del corso Elementi costruttivi delle macchine riguarda la qualità nella progettazione. Gli argomenti di questa lezione sono la definizione di qualità, la qualità come un sistema, l'evoluzione storica degli approcci alla qualità, gli ambiti interessati dagli approcci della qualità, la qualità in azienda, i settori interessati, la qualità nella progettazione e vari strumenti adoperati. La definizione di qualità per il momento prendiamo la più semplice, cos'è la qualità di un prodotto o di un servizio? È quello che si può definire come rispondenza all'uso, che è una traduzione praticamente, l'equivalente diciamo della lezione anglosassone, fitness for use, dove per uso si intendono le esigenze per le quali è stato pensato il prodotto o servizio. In parole povere cosa vuol dire? Vuol dire che il prodotto è di qualità quando soddisfa le esigenze per cui era stato pensato. Per esempio, io ho un rasoio elettrico, praticamente è di qualità se fa bene la barba, una macchinetta per caffè è di qualità se fa un buon caffè e così via. Dai prodotti più semplici il concetto di qualità può essere quindi applicato ai prodotti più semplici fino a prodotti più complessi. Bisogna ovviamente definire quali sono le esigenze del cliente e dell'utilizzatore. Una volta definite le esigenze, se il prodotto soddisfa le esigenze è di qualità, se non soddisfa non è di qualità. Quindi non è che ci sia buona, cattiva qualità, è un po' o sì o no. Veniamo ora invece a definizioni un po' più tecniche che sono importanti. Quando si parla di qualità bisogna parlare con cognizione di causa. Allora io ho preso a riferimento le definizioni che sono riportate le normative UNI e EN ISO 8402 che è la traduzione italiana della norma ISO 8402 che ha per titolo proprio definizioni di qualità. Quindi ho estratto da questa norma quelle parti che ritenevo più interessanti per lo scopo di questa lezione. Allora la definizione di qualità che internazionalmente è considerata valida, cioè più valida della precedente, più completa della precedente diciamo così, è insieme delle caratteristiche di una entità che ne determinano la capacità di soddisfare esigenze espresse o di implicite. Se voi andate bene a vedere praticamente questa definizione ci ritrovate in pratica quella precedente. Però si parla di entità in generale e si parla di esigenze sia espresse sia implicite. Nel senso che può darsi che non siano esigenze espresse ma siano esigenze che un qualcuno, un cliente, un utilizzatore praticamente sente come esigenze ma non l'ha ancora esplicitate. Siccome lì si parla di entità mi è sembrato opportuno andare a vedere cosa intende la ISO 8402 per entità. Entità è ciò che può essere descritto e considerato individualmente. questo dice poco ma la nota forse dice qualcosa di più. Un'entità può essere per esempio un'attività o un processo, può essere un prodotto, può essere un'organizzazione, può essere un sistema o una persona o una qualsiasi loro combinazione. Cos'è un processo? processo. Il processo è l'insieme di risorse e di attività fra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita. Ho ritenuto opportuno chiarire anche cosa si intende per prodotto perché se vi ricordate nella prima lezione si è parlato del prodotto in una definizione diciamo un po' terra terra. Qui c'è una definizione diciamo molto più tecnica. Il prodotto è tutto ciò che è il risultato di attività e di processi. Quindi un prodotto può comprendere servizi, hardware, materiali dal processo continuo, software o loro combinazioni. Il prodotto può essere tangibile, per esempio iniziale di componenti o materiali dal processo continuo, oppure intangibile, conoscenza o idee, oppure una combinazione di questi. Quindi il prodotto non è un qualcosa come la macchina per fare il caffè, è anche qualcosa di diverso, un programma di un calcolatore, può essere un processo di fabbricazione, un processo di saldatura, quindi ha delle accezioni un po' più vaste. Altre definizioni che sono importanti per ciò che seguirà sono la verifica, cosa intende per verifica? Verifica è conferma del soddisfacimento dei requisiti prestabiliti data a secchio di esami e supportata da evidenze oggettive. Questa è una cosa importante, è importante le evidenze oggettive, esami e supportate di esami. Questa vuol dire che quando vado a verificare qualcosa devo confrontare ciò che ottengo con delle misurazioni opportune con ciò che è indicato in documenti già predisposti. Quindi è il confronto tra ciò che controllo con degli strumenti e ciò che praticamente è stato già stabilito in dei documenti è l'oggetto della verifica. Nella fase di progettazione e sviluppo del termine verifica riguarda il processo di esami dei risultati di una determinata attività per determinare le conformità e i requisiti prestabiliti. Quindi non è detto che la verifica riguardi soltanto le attività, per esempio, di fabbricazione, cioè verificare che il diametro di un albero è di 200 mm più o meno 0,2. Quello è un processo di verifica che vedremo poi si chiama controllo di qualità. Ma c'è anche una verifica della progettazione come giustamente aggiunge la nota. Quindi una verifica di un'attività che non può essere misurata con un calibro. Però bisogna stabilire dei criteri oggettivi per determinare la conformità ai requisiti prestabiliti. Una cosa diversa è la cosiddetta validazione. La validazione è la conferma del soddisfascimento dei particolari requisiti relativi ad un determinato impiego specifico data a seguito di esami e supportata dall'evidenza oggettiva. È una cosa diversa dalla verifica. Praticamente la validazione implica il concetto di stabilire se quel certo prodotto è confacente all'uso specifico indicato. È una cosa diversa dalla verifica. La verifica praticamente è un soddisfascimento di requisiti indicati in certi documenti. No, invece la validazione vuol dire che questo è valido per gli scopi per cui era fatto oppure per essere impiegato in un certo contesto e così via. È una cosa completamente diversa. Vedremo che anche nel caso della progettazione, di cui parliamo oggi, cioè qualità della progettazione, si distingue la verifica della progettazione e validazione della progettazione. Dalla definizione di qualità che abbiamo riportato sopra, si deduce che le attività interessate alla qualità sono praticamente tutte le attività tipiche di un'azienda. Le interconnessioni delle varie attività sono numerose e tali che un loro controllo può essere attuato soltanto considerando la qualità come un sistema. Cosa vuol dire che la qualità è un sistema? Un sistema è un'entità che deve essere pianificata, posta in atto in modo sistematico, deve essere controllata e deve essere corretta se l'esito del controllo è negativo. Tutte le attività complesse vengono trattate oggi come sistemi. Addirittura ci sono dei corsi universitari che si chiamano teoria dei sistemi, ci sono dei professori che sono professori di teoria dei sistemi. I sistemi devono essere controllati, si sono talmente complessi, le interconnessioni delle varie attività sono talmente elevate che soltanto una gestione unitaria dell'insieme fa sì che da questo sistema esca fuori qualcosa che ha un certo senso. E allora per vedere un attimo di applicare questo concetto al sistema qualità praticamente ho predisposto questa figura che ho chiamato articolazione logica di un sistema qualità. Il sistema quindi deve essere pianificato deve essere attuato, cioè tutto ciò che è stato pianificato, predisposto deve essere attuato. Ma questa attuazione, durante l'attuazione è necessario eseguire opportuni controlli. Questi controlli possono dare esito positivo, quindi praticamente esce, diciamo c'è la freccetta del sì, se danno esito negativo c'è la cosiddetto ritorno indietro, quello che chiamano nell'inglese il feedback, che in gergo della qualità si chiama azione correttiva. Azione correttiva cosa fa? Azione correttiva in un sistema qualità influenza la pianificazione, cioè influenza tutte le attività predisposte. Se io ho predisposto una procedura per andare a fare una certa attività e io vedo che quella procedura è sbagliata, devo cambiare la procedura, il sistema deve essere, si deve controllare in modo automatico, cioè deve essere predisposto il sistema in modo tale che i controlli sono fatti, in modo tale che ci possa essere un'autocorrezione del sistema. Quello che si dice è che è un sistema in controreazione, direbbero praticamente i professori di teoria dei sistemi, è un sistema in controreazione. Ebbene, il sistema qualità in qualsiasi contesto si applichi deve essere un sistema in controreazione. Allora vediamo un attimo com'è che siamo giunti oggi a concepire questo sistema qualità, perché la storia ci insegna diverse cose, è importante pensare un po' alla storia perché soltanto l'esperienza storica talvolta ci illumina su certi aspetti. Oggi la qualità è considerata qualcosa di importante, di complicato, talmente complicato che abbiamo detto che dobbiamo trattarla con l'approccio sistemistico, come un sistema. Ma è sempre stato così? No, non è stato così, è stato così soltanto da una certa data in poi. Perché? La qualità è un attributo che è insito in tutte le attività umane. Anche l'uomo della pietra praticamente pensava di fare le felci o gli strumenti che gli interessavano di qualità, perché voleva che fossero rispondenti all'uso. Voleva che quando la idea colpiva praticamente un animale, quello murisse o almeno fosse tramortito in modo tale che poi non subisse danno dall'animale stesso. Ebbene, allora, la qualità fino all'epoca, che io ho chiamato fino alla prima rivoluzione industriale, quella che ho chiamato generalmente era artigianale, praticamente non aveva un'importanza come sia oggi. Perché la qualità dipendeva dall'abitato dell'artigiano, cioè l'artigiano praticamente aveva nella sua testa, praticamente pensava le cose, le metteva in atto, praticamente le controllava e eventualmente si correggeva. Era lui il sistema, era la sua testa il sistema. Stradivari, quando faceva i violini, praticamente non è che ci avesse quello che oggi si richiede, una procedura scritta, ci avesse un sistema, ci avesse un'organizzazione e così via. No, l'organizzazione era se stesso. Quindi era l'abitato dell'artigiano che faceva sì che il sistema, che il prodotto fosse di qualità. Quando è che invece praticamente la qualità ha cominciato a perdere colpi? All'inizio dell'evoluzione industriale. Perché? L'evoluzione industriale ha portato uno stravolgimento del concetto di fabbricazione. La fabbricazione è stata suddivisa in tante attività elementari, ciascuna delle quali è stata affidata a delle persone che non erano così abili come l'artigiano, ma sapevano fare soltanto delle piccole cose ripetitive. E l'oggetto veniva fuori, magari più complicato di quello dell'artigiano, come somma degli interventi fatti da questi attori singoli. Ebbene, si è resi conto che c'era la necessità che qualcuno controllasse che in fondo venisse fuori un prodotto, cosa è conforme alle prescrizioni. Ebbene, questa attività di controllo, che fu chiamata controllo di qualità finali, o quality control, praticamente è stata la tipica attività di qualità all'inizio della rivoluzione industriale. Dal 1900 al 1940 c'è stata un'evoluzione. I prodotti sono complicati sempre più. Il numero di attività fatte per fare un singolo prodotto è passato da poche decine a centinaia a migliaia di attività. E allora si è resi conto del pericolo che c'era che un prodotto che all'attività X fosse praticamente difettoso e quello continuasse fino alla fase finale e uno si accorgesse che era difettoso praticamente soltanto al controllo finale. Tipico esempio, se io faccio una carcassa di una pompa e praticamente non faccio il controllo della fusione e poi costruisco tutta la pompa e poi mi accorgo in fondo quando vado a fare la prova a pressione di questa pompa, avendo scoppia perché c'era un difetto macroscopico nella fusione. Quindi è il resto necessario introdurre oltre al controllo finale anche dei controlli intermedi in fase significativa, alla fine di fasi significative del processo di fabbricazione. Ebbene questi controlli di qualità intermedi hanno aumentato il numero di controlli, quindi anche il peso che il controllo di qualità ha avuto, ma è sempre un controllo fatto in fase di fabbricazione. Dopo il 1940, diciamo 35-40 e poi, soprattutto con l'emissione di prodotti in grandissima serie, si è resi conto che fare controlli di qualità intermedi e controlli di qualità finali costava troppo. Allora fu introdotto il controllo di qualità statistico. Il controllo di qualità statistico perché ha permesso di fare, di limitare il numero di controlli mantenendo una probabilità alta che pezzi difettosi non passassero il controllo. Dal 1970, se non vado errato, è stato introdotto il concetto di quality assurance, tradotto in italiano con assicurazione o garanzia della qualità. Questo concetto è stato introdotto in campo aerospaziale per questo motivo. Vedremo poi cosa consiste questo. Il numero di… cioè è stato introdotto in un ambiente in cui un ente, che era praticamente la NASA, aveva commissionato a tante ditte di eseguire parti di una navetta spaziale. Queste ditte poi avevano subappaltato ad altre, poi avevano subappaltato ad altre, quindi il complesso delle ditte che erano implicate nella fabbricazione di questo oggetto spaziale era molto elevato. Allora la NASA, per assicurarsi che questo prodotto fosse di qualità, continuamente mandava una serie di ispettori a controllare tutte le fasi, tutte le fasi, la maggior parte delle fasi importanti di fabbricazione di queste parti. Ebbene, il servizio ispettore della NASA si è gonfiato a dismisura talmente alto che praticamente c'è stato poi un ripensamento che ha portato a questa conclusione. Ma è possibile che io non riesca a fare qualcosa di diverso da mandare i miei ispettori a fare il controllo di qualità nelle varie sedi dei miei fornitori per avere un prodotto che abbia una certa qualità finale? Ebbene, da questo ripensamento è nato il concetto che, da questo ripensamento e da altre considerazioni quali quella, come mai io faccio soltanto controlli in fase di fabbricazione e non faccio anche controlli per esempio in fase di progettazione? Se io faccio un errore per esempio in un disegno, perché ci metto una quota in un particolare diverso da quella che dovrebbe essere. Tutti i prodotti che vengono dopo, anche se sono conformi a questo disegno, sono praticamente non conformi al prodotto finale. Quindi un errore di fabbricazione fa sì che tutti i prodotti, quindi il 100% dei prodotti che vado a fabbricare, pur essendo conformi al documento di progetto, sono praticamente non conformi. Quindi è nata l'idea che oltre al controllo in fabbricazione ci fossero anche controlli in progettazione. Poi c'è stato anche un'estensione di questa idea a estendere i controlli anche in fase degli approvvigeramenti, in fase di organizzazione e così via c'è. Si è esteso questo concetto del controllo a macchia d'olio, in modo tale da interessare tutte le attività di un'azienda. Quindi l'assicurazione di qualità non è altro che l'applicazione, l'estensione dei controlli ha le altre attività. Ora voi praticamente mi direte, ma se io estendo i controlli, aumento il prezzo, praticamente globale dei controlli. È ovvio, se io sovrappongo ai controlli in fabbricazione, quelli in progettazione, quelli sulla fase di approvvigionamenti, sull'organizzazione e così via. Per ridurre questi costi globali si è cercato di responsabilizzare tutte le aziende che erano interessate a un certo prodotto, indicando a ciascuna di esse delle specifiche di qualità, specifiche di quality assurance, cioè di assicurazione di qualità, che dobbiamo rispettare per poter fare certe cose. Allora, impongo a loro che ci abbiano una certa organizzazione, che abbiano un controllo interno di progettazione, così via, in modo tale che loro devono assicurare loro, non io che vado a controllare, ma loro, di fornirmi un prodotto che sia conforme alle specifiche. Questa responsabilizzazione è il concetto fondamentale che poi si è esteso anche nel successivo sistema qualità. Praticamente un moderno sistema qualità si ha, che la qualità interessa tutti, ma ciascuno degli enti interessati, delle persone interessate è coinvolto nella qualità, nel senso che è responsabile lui nel fornire per le sue attività un prodotto di qualità, conforme alle prescrizioni. Quindi ogni anello della catena praticamente rappresenta il punto, si deve responsabilizzare, deve essere istruito, deve essere aiutato, in modo tale che lui sia consapevole che per che la qualità globale sia ottenuta bisogna che ciascun ente svolga le sue funzioni secondo qualità. E allora dal 1880-1990 si è sviluppato questo concetto di sistema di qualità. Sistema di qualità che ha abbracciato, mentre l'assicurazione della qualità è applicata a prodotti di alta tecnologia, in campo aerospaziale, in campo nucleare e così via, e richiede una certificazione continua di tutte le fasi, il sistema qualità è stato un'applicazione di questi concetti base della garanzia della qualità o quality assurance, al più vasto mondo industriale, anche per prodotti di largo consumo, addirittura praticamente per gli elettrodomestici, per le auto, per i giocattoli, praticamente è stata estesa a tutti questi prodotti. Un'altra cosa che volevo accennare è questo fatto. Dal 1990 in poi c'è anche questo sistema qualità che implica praticamente l'azienda che produce, i fornitori, l'utente, eccetera, praticamente tiene al di fuori l'ambiente esterno. Ebbene, oggi tutte le normative di questo mondo stanno cercando di imporre a tutti coloro che fanno prodotti di qualsiasi tipo che il prodotto sia inerte nei confronti dell'ambiente, cioè non inquini l'ambiente in nessun modo, né con rumore, né a fine vita, eccetera. Ebbene, questo concetto è un concetto che tuttora è nato, tuttora è in fase di elaborazione, si chiama quality environment. Allora ho predisposto qui una figurina, la quale mostra un po' come si è esteso praticamente il settore di interesse, della qualità nel tempo. All'inizio c'era un quality control che era relegato all'azienda, ma non soltanto all'azienda, addirittura alle attività di produzione dell'azienda, perché era inserito nell'attività di fabbricazione. Il quality assurance ha coinvolto nel concetto di qualità i fornitori, i committenti, perché in questo passaggio di specifiche di qualità agli altri, di imporre anche all'esterno della della propria azienda, praticamente le specifiche di qualità, ha coinvolto nella qualità anche i fornitori e i committenti. Il quality system addirittura ha coinvolto anche il mercato, mentre il quality environment ha coinvolto l'ambiente esterno. Veniamo ora a, diciamo, di vedere un attimo all'interno di una generica azienda quali sono le funzioni aziendali interessate per la qualità. Per quale motivo vi parlo di questo? Perché non si può parlare di qualità in una progettazione se non si capisce che questo è un tassello di un più grande quadro, perché è un sistema. La progettazione non è qualcosa che viene fatta avulsa da tutto il resto, no, viene fatta insieme in un'organizzazione, in un sistema informativo, in un'azienda in cui c'è un ufficio di progettazione, in un'azienda in cui c'è l'ufficio di fabbricazione, in un'azienda in cui ci sono degli enti incaricati ai controlli e così via. Quindi non si può parlare di qualità nella progettazione se non si capisce almeno vagamente in quale contesto si opera. Per questo motivo vi ho voluto qui illustrare in questa scheda, praticamente quali sono le funzioni aziendali interessate ai problemi della qualità. E sono l'organizzazione, l'interno per l'organizzazione è praticamente tutte quelle funzioni aziendali che sono delegate all'organizzazione, a stabilire chi fa, che cosa fa, a stabilire quante persone devono stare in un certo ufficio e quante devono stare in un altro. Quindi chi stabilisce le responsabilità di uno e dell'altro e così via. Poi la documentazione, intendendo per documentazione tutto ciò che riguarda praticamente l'informazione che gira nell'azienda. Oggi la maggior parte di queste informazioni girano tramite un sistema informativo. Poi c'è la funzione progettazione, di cui parliamo un po' più a fondo dopo. Poi c'è gli approvvigionamenti. Gli approvvigionamenti è una funzione molto importante perché abbiamo detto che sia per prodotti complessi ma anche per prodotti semplici gli approvvigionamenti coprono una vasta parte del prodotto stesso. Tipicamente in media più della metà dei componenti di un prodotto vengono acquistati. Ebbene la qualità di un prodotto molto spesso dipende da prodotti acquistati. A suo tempo praticamente certe aziende elettroniche europee hanno cercato di avvicinarsi all'affidabilità dei corrispondenti giapponesi e non c'erano riuscite e dopo tanti sforzi che facevano nel migliorare la loro qualità al loro interno, aumentare i controlli, fare tutto quello che si resero conto che la minore affidabilità dei loro prodotti era dovuto essenzialmente ai elementi e ai componenti acquistati dall'esterno. Quindi il primo punto che è stato affrontato per la qualità in prodotti di largo consumo è stato proprio applicare i concetti di qualità agli approvvigionamenti. Poi c'è la fase di fabbricazione. La fase di fabbricazione è stata quella che per prima ha subito il concetto di qualità. C'erano gli ispettori di controllo di qualità, controlli statistici, controlli intermedi e così via. C'è poi un'altra funzione che è la funzione dei controlli. Funzione dei controlli che è molto importante perché i controlli che vengono attuati in un sistema qualità sono oltre ai controlli sulla fabbricazione, sulla progettazione e così via, quelli che vengono chiamati controlli di sistema. Intendendo per controlli di sistema, vedere come le regole del gioco vengono rispettate. E allora se queste regole del gioco non sono rispettate, allora praticamente si attua l'azione correttiva, che si chiama azione correttiva di sistema. Perché ci possono essere azioni correttive anche relative a un certo particolare processo, un certo particolare oggetto. Per esempio io faccio una saldatura, la saldatura mi viene sempre con difetti, allora vado a indagare e vedo che magari è fuori taratura la macchina che ha automatica per fare la saldatura. E allora intervengo, ecco l'azione correttiva, e taro praticamente quella macchina. Ebbene, questa è un'azione correttiva particolare. Ma se io praticamente mi rendo conto che c'è la ditta X che non ha applicato i principi di qualità che io gli ho dato, mi fornisce le cose come gli pare, non fa alcune azioni sui suoi subfornitori e così via. Ebbene, questo è un controllo di sistema, quello non sta alle regole del gioco. E quindi praticamente si fa, si innesta ad un'acquisitazione correttiva. Ebbene, le verifiche di sistema vengono chiamate in gergo verifiche ispettive, dette in inglese audit. E questo termine audit è stato mutuato dal mercato finanziario, dove praticamente per esempio la Banca d'Italia fa degli audit sulle banche normali. Un mente finanziario fa degli audit sulle sue consociate e così via. Non sono altro che audit finanziari nei quali fanno fare una verifica che tutte le procedure che erano state predisposte siano state attuate nel modo corretto. Per esempio la Banca d'Italia va a vedere se sono state attuate tutte le procedure stabilite relativamente ai cambi di valuta, per esempio. Oppure altre cose, ai mutui concessi, al fatto che i mutui non possono essere al di là superiori a X% del capitale della banca e così via. Bene, questi sono audit finanziari. I corrispondenti audit di qualità, verifiche ispettive di qualità servono a vedere se il sistema, nelle varie aree, approvvigionamenti, funzionamento, ha praticamente rispettate quelle regole che esso deve essersi dato, perché quando l'ho pianificato. I rapporti tra vari enti aziendali, l'assegnazione dei compiti di responsabilità, le modalità di esecuzione delle varie attività importanti per la qualità, devono essere preventivamente definite in opportuni documenti che ordinati dal più generale a particolare sono, cioè ogni azienda deve avere un cosiddetto manuale di qualità, deve avere opportune procedure che hanno un carattere interdipartimentale, cioè tra enti diversi dell'azienda e degli altri documenti che hanno chiamato istruzioni o guide. Guardiamo un attimo le caratteristiche di questi vari documenti. Il manuale di qualità riporta sinteticamente tutte le azioni intraprese dall'azienda per soddisfare le questioni di qualità riportate in norme o imposte da contratti. Cioè nel contratto io impongo che la ditta TOT per esempio adotti la normativa UNI EN ISO della serie UNI EN ISO 9000. Ebbene, lui deve dimostrarmi con questo manuale della qualità che tutti i punti indicati sulla normativa ISO 9000 per le parti che gli competono siano rispettati. E quindi mi deve dare questa assicurazione. Il manuale di qualità è il biglietto da visita dell'azienda per quanto riguarda la qualità. Contiene praticamente tutti gli impegni che si è preso all'azienda per quanto riguarda i requisiti di qualità che sono indicati dove? Nelle specifiche di qualità che ha avuto nel contratto oppure che sono nella norma. Per esempio, se io oggi va molto di moda il processo di certificazione. Io chiedo che un'azienda chiede di essere certificata secondo la ISO 9001. Si trova molto spesso pubblicizzato anche sui giornali. E' stata certificata secondo la 9001, secondo la 9002. Beh, la 9001 e la 9002 non sono altro che delle norme, che ora vedremo il titolo, indicano certi requisiti di qualità. Devi avere una certa organizzazione, devi fare questo, devi fare questo, devi fare quest'altro. Ebbene, allora uno in maniera autonoma si predispone questo, poi chiama degli ispettori particolari i quali vanno a fare una verifica ispettiva e verificano che lui abbia effettivamente fatto tutto quello che è indicato nel 9001. Se la verifica è positiva, allora gli danno la certificazione, altrimenti praticamente la certificazione non viene insegnata. Cosa sono le procedure? Le procedure indicano la modalità di esecuzione delle varie attività importanti per la qualità, nelle quali sono coinvolti diversi uffici o enti aziendali. Tipiche procedure sono procedure adattive all'organizzazione, nella quale indicate le responsabilità dei vari enti e così via, procedure per l'emissione dei documenti, procedure per la gestione di documentazione e così via. Le istruzioni o guide. Le istruzioni o guide. Le istruzioni di guide riportano le modalità dettagliate di esecuzioni di attività tipiche di un ufficio o enti aziendali. Esempi tipici, istruzioni per la saldatura di un dato materiale, guida di progettazione di particolari elementi di macchina. I principi fondamentali della qualità applicata nella progettazione hanno comportato, cosa deve fare uno praticamente quando vuole applicare i principi di qualità nella progettazione? La prima cosa da fare, quando riguarda l'organizzazione, è individuare un responsabile di attività di progettazione. Non si può praticamente parlare di qualità se non si parla di un responsabile. In tutti i settori, quindi anche nella progettazione bisogna essere un responsabile. Poi deve predisporre. Nei casi in cui è richiesto, per esempio è richiesto nei casi delle attività, per esempio spaziali, nei casi nucleari, nei casi procedure, per esempio emissione e gestione della documentazione. Poi delle opportune guide di progettazione. E poi degli strumenti per l'analisi di affidabilità di gruppi o sistemi che sono sempre più spesso citati nelle attività che si richiede per la fabbricazione. La normativa più usata per l'applicazione dei principi di qualità, sistema qualità, è la serie UNIEN ISO 9000, che è una traduzione italiana della serie ISO 9000, le cui norme principali sono la 9001 del 1994, norme di gestione per la qualità e di assicurazione della qualità, guida per la scelta e l'utilizzazione, guida diciamo di iniziale. La 9001, sistemi di qualità, modello per l'assicurazione della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e assistenza, è citata quando praticamente nei rapporti fra un cliente e un fornitore, è citata nelle certificazioni, 9001, 9002, 9003 servono per le certificazioni, perché la 9001 copre tutti gli aspetti della qualità, compresa la progettazione. Se vediamo la 9002 invece riguardo alla fabbricazione, installazione e assistenza, la 9003 riguarda le prove, controlli e colori finali. Quindi certe aziende, per esempio c'è un'azienda che fa soltanto fabbricazione, non fa mai progettazione, sarà certificata secondo UNIEN ISO 9000, altre che non fanno neppure fabbricazione, ma per esempio uno che ha soltanto un magazzino, è un commerciante, allora gli basta la 9003. Quella che è una una delle più importanti è la 9004, perché? Perché la 9004 è qualcosa che serve a un'azienda che si vuole dare un sistema qualità, infatti siamo gestione per la qualità ed elementi di sistema qualità, guida generale. Le altre che lì ho indicato sono guide che sono uscite sotto forma ISO, che alcune tradotte in italiano e altre ancora no, le attività di progettazione sono citate nelle norme UNIEN ISO 9001 e 9004. Mi sembra interessante riportare i principali punti che sono riportati in queste due normative. Nella 9004 c'è un paragrafo che riguarda, è l'8, che riguarda la qualità delle specifiche della progettazione, che ha come sottoparagrafi l'8.1, contributo delle specifiche della progettazione alla qualità, l'8.2, pianificazione e obiettivi della progettazione, l'8.3, prove e misurazioni sul prodotto, l'8.4, riesame della progettazione, l'8.5, qualifica e validazione del progetto, l'8.6, riesame finale del progetto ed autorizzazione al lancio della produzione, l'8.7, riesame delle idoneità all'immissione sul mercato, controllo delle modifiche del progetto, riqualificazione del progetto, gestione della configurazione nella progettazione. Nella 9001 i punti importanti presi a riferimento per quanto riguarda la progettazione sono il 4.4, controllo della progettazione, che ha come punti qualificanti il 4.4.2, pianificazione della progettazione e sviluppo, 4.4.3, interfacce organizzative e tecniche, 4.4.4, dati e requisiti di base della progettazione, 4.4.5, risultati della progettazione, 4.6, riesame della progettazione, 4.4.7, verifica della progettazione, da non confondersi con la 4.4.8, validazione della progettazione, 4.4.9, modifica la progettazione. Come appare dai titoli dei capitoli e paragrafi non necessitate, l'attività di progettazione, come ogni altra attività inserita in un sistema qualità, deve possedere alcuni requisiti tipici, che sono la pianificazione, la sistematicità e il controllo. Questi requisiti devono essere comunque applicati nella estensione e approfondimento commisurati alla natura del prodotto, la comprensione della progettazione, eccetera. Recentemente è stata riservata molta attenzione ai requisiti di sicurezza del prodotto, che saranno sviluppati nella lezione 7, che devono essere studiati principalmente in fase di progettazione. A titolo di esempio, nel paragrafo 4.4.8 della UNIEN ISO 9001, si riporta praticamente il concetto di validazione della progettazione, che deve essere eseguita per assicurare che il prodotto soddisfa determinate esigenze o requisiti dell'utilizzatore, cosa diversa dalla verifica della progettazione, che riguarda invece la verifica della validità tecnica di un documento di progettazione fatto con diversi metodi. Con questo si è terminata la lezione numero 3. Nelle prossime lezioni vedremo altri aspetti che riguardano il progetto, in particolare il concetto di affidabilità e il concetto di sicurezza, molto importanti per quanto riguarda lo sviluppo della progettazione.